Non è difficile e quasi impossibile per una donna non solo emergere ma fare anche della semplicissima politica o amministrazione. Questo perché? Perché noi donne non facciamo una cosa sola in un solo momento ma manteniamo tutto il nostro lavoro e quindi il lavoro professionale, il lavoro a casa, le passioni, gli hobby, le amicizie, la famiglia di origine oltre che quella attuale. Di conseguenza inserirsi dentro anche con un impegno civico, un'amministrazione o politica all'interno di qualche partito è veramente molto difficile. I tempi della politica non sono ancora conciliabili con i tempi di una donna. La mia esperienza in politica durata 5 anni all'interno del Comune di Verona come assessore in particolare al bilancio, poi al commercio comunque con deleghe poco visibili, poco da taglio del nastro, è stata vissuta con molta responsabilità e patos soprattutto nei due anni del Covid, della pandemia perché abbiamo avuto degli sdebiti, delle carenze di bilancio molto molto pesanti, abbiamo fatto degli equilibri a 58 milioni di euro, ciò significa che avevamo previsto un meno 58 milioni di euro. Questo tipo di responsabilità mi ha determinato poi a limitare la mia esperienza politica perché quando la fai con una determinata modalità e anche con determinate difficoltà, finito il tuo tempo, dici basta. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.